Al Bobb, come vedi, sono tornati molti dei migranti che tra ieri e l'altro ieri sono stati ricollocati in altre strutture. Questo perché le strutture dove sono stati ricollocati hanno una chiusura giornaliera che quindi non garantisce loro nemmeno dei pasti. Nel centro ci sono ancora delle persone che non sono riuscite a essere ricollocate, una decina almeno. Noi non vogliamo assolutamente che il problema venga risolto con una ricollocazione fatta male e improvvisata. Si sta tentando di mettere un'altra toppa e non di arrivare a una soluzione strutturata. Bambino, uomo, donna. E sono tutte donazioni? Tutte donazioni, certo. Sì, sì, tutte donazioni. Per quanto riguarda la pasta, si parla di circa una tonnellata, più o meno, poco meno. Per quanto riguarda il riso, un migliaio di confezioni di prodotti per l'igiene, tra saponi, sia per il corpo, sia per la pulizia. Vestiti c'è una stanza piena, in pratica quella che noi chiamiamo l'area vestiti. Abbiamo chiesto un magazzino al Dipartimento delle Politiche Sociali per ricollocare tutti i beni donati dalla cittadinanza che abbiamo qui dentro, ma ad ora... No, non ce l'hanno dato. È un posto dove chiunque ha fame viene qua, però te non sai mai quanti arriveranno. Te non sai cosa i volontari e altre persone, appunto le famiglie in generale, porteranno di roba da mangiare. Quindi il menù è fatto sul momento? Sul momento, tipo ti arriva quello che ha portato 16 polli, nessuno l'ha mai tagliati prima. Sva il pollo con i peperoni, ok, però non c'è più i peperoni perché l'hanno finiti ieri sera a cena. Appunto si fa il pollo con le zucchine, capito? Cioè te lo inventi lì per lì, come farle? Il fruttivendolo sotto casa mia, nel suo piccolo, tutte le volte, mi dava casse, casse, casse di frutta, capito? Invece quando stavano a cominciare, che lui diceva queste non le posso più vendere, io me le prendevo, le portavo qua. E facevamo macedonie meravigliose, tipo questa volta. Vieni a tavola! È pronto! Tutti a mangiare! Tutti a mangiare! Qua sembra bravo a mangiare, la persona arriva qua, quando arriva nel mare arriva qua per dormire e mangiare, così. Sta qua a dormire con una ragazza veneziana, marocchina, elettriana, così. Tu sei venuto qui per dormire e senza questo posto dove andrei a dormire? Mezza serata per forza.